Oh, santo cielo. Sapete, le ragazze come quella si mettono in pericolo. A quell'età dovrebbero saperlo, no? Ho bisogno di stendermi. Ma che stai facendo? Stai tranquilla, sei al sicuro? Che stai facendo? Ehi, ti ho chiesto cosa stai facendo. Ogni settimana vado in un locale e fingo di essere talmente ubriaca da non stare in piedi. E ogni settimana mi si avvicina a un bravo ragazzo per vedere se sto bene. Stai bene? Sei davvero molto carina. Sono un bravo ragazzo. Davvero? One, two, three, four. Credevo che fossimo in sintonia. Ok. Quanti anni ho? Come mi chiamo? Questa era troppo difficile. Cassandra, eravamo in classe insieme alla Forest. Saresti stata un buon medico. Che è successo? Ho lasciato a causa di circostanze insolite. Mi dispiace di non essere andata con lei. Devi dimenticare. Che hai intenzione di fare? Non lo so. È il peggior incubo di ogni uomo essere accusato così. Sai qual è il peggior incubo di ogni donna? Eravamo ragazzini. Se ti azzardi a ripeterlo un'altra volta. Ho sempre voluto diventare un medico. Ultimamente mi è venuta voglia di riprovarci con la medicina. Ho sempre voluto diventare un'altra volta.